Siamo emozionate, siamo insieme a Federica, Flavia e Flavia. Benissimo, cosa fai nella vita? Studio, quasi finito. Cosa studi? Sei un ingegnere. Sei un ingegnere, dopo cosa faremo? Non lo so, panico. Panico totale? Sì, panico totale. Magari lavorerò in web tv? Magari sì, perché no, se ti voteranno da internet. E invece? Ho dato oggi il mio ultimo esame da specialistica di scienze motorie e lavoro già in una palestra, in una piscina qua a Novara, in provincia di Novara. Dove? A Cameri. A Cameri, benissimo. Cosa ti piacerebbe fare all'interno di una web tv? Flavia? Non lo so, cosa potrei fare? Non lo so. Dico, a te non mi piacerebbe fare tutto. Tutto? Ma un programma in particolare? Non lo so, magari andare in giro a sentire cosa ne pensa la gente. Perché no? C'è una cosa che faccio io su cittadinovara.com. Esatto, quello mi piacerebbe. E invece tu? Io anche, non ne ho più fallita idea sinceramente, io faccio quello che fa lei. Sei la sua ombra, se viaggiate sempre in copia, ok? Perché il pubblico da casa dovrebbe votare per te? Perché sono bella, simpatica e intelligente. E quindi sarebbero i tre aggettivi che definiscono il tuo carattere o ce n'è altri? No, 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 sono anche abbastanza aggressiva, rompi palle e basta. Però tanto, tanto è simpatica. E invece perché il pubblico da casa dovrebbe votare per l'ombra di... Perché lei senza di me non può andare. Diamo un buon motivo a loro? No, io sono una ragazza solare, attiva, mi piace stare in mezzo alla gente, mi piace comunicare e mi piace sbocciare alla grande. Sbocciare? Sbocciare cosa significa? Spieghiamolo. È un termine che siamo ieri mie amiche per fare delle serate alcoliche, insomma. Alcoliche, quindi. Non guidate, vi raccomando, non guidate dopo aver fatto una grande percorso. Ci faccio sempre portare, eh. Perfetto. E tre aggettivi che identificano il tuo carattere? Solare, attiva e determinata. Benissimo, allora sul solare, attiva e determinata, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a... Tra un attimo!